Ciao a tutti cari amici e cari amici, sono Skipper, benvenuti in questo nuovo video. Perdonatemi per la lunghissima assenza, ma purtroppo in questo periodo non ho veramente tempo. Leggo sempre i vostri commenti e quindi mi dispiaceva lasciare il canale vuoto per così tanto tempo e quindi oggi ho deciso di fare questo video speciale in formato podcast, sperando che questo renda più veloci tutte le operazioni di montaggio. Quindi oggi andrò ancora più a braccio del solito, ma spero comunque che questo video possa piacervi. Ho fatto una selezione di alcune delle uscite degli ultimi mesi che mi sembravano più interessanti e delle quali potesse valere la pena parlare. Primo di tutti, se la mia idol preferita arrivasse al Butokan, morirei. Manga molto di nicchia, pubblicato in Italia dalla Salda Press. È un manga del quale non è facilissimo parlare. Partiamo dalla parte semplice del discorso, l'edizione italiana. Questo è il primo manga che acquisto, della Salda Press, che da poco ha cominciato a pubblicare manga e devo dirvi però che è più brava di alcuni editori, anche scafati, che pubblicano da anni e anni. Questo perché l'edizione della Salda Press è molto curata, ha la sovraccoperta, il prezzo è giusto, la traduzione è fatta bene e le uscite sono state puntuali fino a questo punto, quindi assolutamente promosso da questo punto di vista. Per quanto riguarda la storia, molto probabilmente qualcuno di voi già conosceva questo manga perché da esso è stato tratto un anime che, se non ricordo male, per un certo periodo di tempo è stato disponibile su YouTube, non so se c'è ancora, mi sembra sul canale della Yamato Video, che non lo aveva doppiato ma si era occupata di fare i sottotitoli in italiano. La trama, per chi non la conoscesse, è abbastanza particolare. C'è la protagonista, della quale non ricordo assolutamente il nome, eppure avendo visto l'anime, avendo letto tutti i volumi del manga, quindi abbiate pazienza, che conduce una vita miserrima, cioè sostanzialmente lavora, 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 lavora e tutti i soldi che guadagna li usa per comprare cd e biglietti per andare a vedere il suo gruppo di idol preferito. Nel senso che lei, nel particolare, è una fan sfegatatissima di Maina, che è un membro appunto di questo gruppo di idol, gruppo un po' di nicchia, non molto conosciuto. Se sapete un po' come funzionano i gruppi di idol in Giappone, io non ho solamente una vaga idea, ma vengono fatti in continuazione dei sondaggi di popolarità per decretare appunto qual è il membro del gruppo di idol più popolare, che quindi poi si esibisce di solito in prima fila. Questa Maina, per la quale la protagonista ha una vera e propria ossessione, è il membro più sfigatino del gruppo, nel senso che è quella che ha meno fan in assoluto, quindi è quella che si esibisce sempre in seconda fila. La protagonista però ha una vera e propria ossessione, come dicevo, per questa Maina, quindi spende tutti i soldi che ha per andare a vederla, per comprare i suoi cd, per sostenerla in tutti i modi possibile. E da qui si origina quello che è il filo conduttore del manga. Il manga parla appunto della protagonista e di altri, tra virgolette, sfigati come lei, che spendono tutti i pochi soldi che hanno appunto per sostenere altre ragazze che fanno parte sempre di questo gruppo. E c'è l'equivoco di fondo, ovvero il fatto che tutte le volte che si incontrano, in qualche evento in cui appunto c'è la possibilità di parlare con le idol, dar loro la mano e così via, Maina ha un atteggiamento sempre schifato nei confronti della protagonista, che quindi è convinta che Maina in qualche modo la disprezzi. In realtà non è così. In realtà Maina ha dei sentimenti di affetto e gratitudine molto profondi nei confronti della protagonista, che appunto è l'unica persona che la sostiene e vive in sua funzione, però per qualche motivo non riesce mai a comunicarglielo. Un po' perché è timida, un po' perché è in imbarazzo. E quindi il manga si basa su questo equivoco comico, del fatto che la protagonista è convinta appunto di suscitare disprezzo nei confronti dell'oggetto, della sua adorazione più totale, mentre in realtà, se vogliamo dire, il suo sentimento in qualche modo è ricambiato da Maina, che però non riesce a esprimerlo e quindi si cruccia per questo fatto. Allora, il manga è disegnato benissimo secondo me, per quanto le ragazze siano comunque un po' tutte simili di faccia, a volte faccio fatica appunto a distinguerle. È piacevole da leggere, non so esattamente come classificarlo, perché è uno slice of life, vogliamo dire, non ci sono appunto eventi particolari, se non questi piccoli equivoci. È il racconto della vita quotidiana, appunto di questa poveretta ossessionata da quest'idol. Quindi è una lettura sicuramente piacevole, molto scorrevole, però c'è un però. sapete, su questo canale ragioniamo sempre, andiamo in fondo sulle cose. C'è un altro lato della medaglia. Come al solito, non so se sono io che penso troppo sulle cose, però in realtà il problema del fatto che alcune persone in Giappone o anche in Corea abbiano una vera e propria ossessione per degli idol o delle idol, è un problema sociale, psicologico e psichiatrico abbastanza serio. E non so fino a che punto ci si possa ridere sopra e ci si possano costruire delle gag sopra. Ripeto, allora, è un manga che se lo leggiamo nel senso di Ah, oggi mi voglio intrattenere, voglio leggere una storia che mi fa staccare il cervello. Allora va benissimo. Il problema sorge nel momento in cui uno invece comincia a pensare che appunto ci sono delle persone che veramente spendono tutti i soldi, che guadagnano facendo lavori di fatica, anche appunto più lavori contemporaneamente per comprare cd o comprare biglietti, per sperare di incontrare appunto un qualche idol, oppure persone che sono talmente ossessionate nei confronti di questi idol che sono convinti che effettivamente gli appartengono. Questa è una cosa di cui sicuramente ho già parlato nel canale, ma se vi ricordate, qualche anno fa uscì la notizia di una ragazza che era un idol di un gruppo famosissimo, adesso non ricordo esattamente quale, che venne fotografata per strada con il suo ragazzo. E siccome c'è questa regola non scritta, tale per cui le idol e gli idol non possono avere un fidanzato o una fidanzata perché sono le fidanzatine o fidanzatini di tutto il loro pubblico virtualmente e questa ragazza fu costretta dalla casa discografica, insomma dalle persone che aveva dietro, a rasarsi la testa e a piangere chiedendo scusa, proprio chiedendo perdono, proprio affranta per quello che avevo osato fare, ovvero avere un ragazzo. Ecco, quindi sono dei problemi seri sui quali, ripeto, non so fino a che punto effettivamente è il caso di fare gag sopra, però, ripeto, non considerando tutto questo, è un manga piacevole, quindi continuerò a comprarlo senza però riflettere a quello che in realtà c'è dietro nel mondo reale. Poi andiamo avanti, volevo parlarvi di Studio Cabana. Se non erro, a ottobre uscirà il volume 5. Allora, io l'ho recuperato tutto insieme, era un manga che non stavo seguendo. Mi sta piacendo, mi sta piacendo e credo che a molti di voi potrebbe piacere, ma devo darvi degli alert. La storia è semplice ma particolare al tempo stesso, ve la faccio breve, è la storia di un amore tossico. Ecco qua, come al solito non ricordo i nomi dei protagonisti, quindi facciamo come al solito che chiamerò il protagonista maschile Peppino. La protagonista femminile, questa me la ricordo, si chiama Yukari, si innamora di Peppino. Peppino è un ragazzo che va in classe con lei, a scuola, però ha un atteggiamento un po' particolare, nel senso che lui è un ragazzo bellissimo, però si fa sempre i fatti suoi, è scorbutico, non parla con nessuno, salta le lezioni, insomma non è molto approcciabile. Ma Yukari capisce che Peppino dentro di sé ha qualcosa di particolare che lo rende diverso dagli altri e quindi decide di approcciarlo e approcciandolo scopre che in realtà lui è un cantante di una band. Si scrive proprio i testi e canta le canzoni, ha una voce bellissima e dai testi capisce che ha un animo molto delicato e quindi appunto si innamora di lui, se non che alla fine del primo volume avrà una, cioè noi lettori avremo una brutta sorpresa. Questo è un mini spoiler però serve per diciamo spiegare la storia nella sua complessità. Purtroppo Peppino è invischiato, ma si capisce da metà volume, Peppino è invischiato in una relazione tossica con Haruki. Ah, questa me la ricordo. Insomma con un'altra ragazza. E quindi il manga appunto è il racconto di questa relazione tossica che Peppino ha con questa Haruki che per mille motivi diversi non è la persona adatta a lui e però lui non riesce a staccarsene. Quindi la domanda è riuscirà l'amore invece pulito, onesto e sincero di Yukari in qualche modo a fargli capire che l'amore è un'altra cosa? Il tema della relazione disfunzionale, della relazione tossica è un tema sempre molto attuale, ne parliamo spesso sul canale, mi sembra che qui venga trattato bene in maniera sufficientemente delicata. Adesso vediamo poi come lo porterà avanti. Devo dirvi che come vibe la storia mi ricorda e ovviamente vuole ricordare un po' Nana, prendetelo con le pinze e Bugie d'amore, prendete anche questo molto con le pinze. In realtà non ha nulla in comune con nessuno di questi due manga che ho nominato, se non nell'ambientazione a sfondo musicale, quindi con Nana proprio non c'entra praticamente nulla. Bugie d'amore, se non l'avete letto vi consiglio assolutamente di leggerlo, uno dei manga che mi sono piaciuti di più negli ultimi anni. C'era anche lì questo sottofondo di una storia ambientata nel mondo della musica, quindi il discorso un po' delle band, il cantante emergente, lì in quel caso la cantante emergente. L'avete letto sapete di cosa parlo, altrimenti rimango sul vago. E c'era dietro anche il discorso della relazione tossica, anche in quel caso secondo me è affrontato più che bene. Quindi interessanti le parti sulla relazione disfunzionale, che in questi primi, ho letto i primi quattro volumi, l'autrice è stata brava a far vedere dal punto di vista sia di Peppino che dal punto di vista di Haruki, quindi ti fa capire entrambi perché si comportano così, ma spero che nei prossimi volumi vada ancora più a fondo sulla caratterizzazione dei personaggi. Un po' più ingenua la parte su Yukari, la protagonista femminile che ovviamente vive il suo primo amore proprio nella maniera tipica, smielata, sdolcinata, un po' insopportabile degli shoujo manga. Se cominciate a leggerlo non perdetevi d'animo durante il primo volume, perché mi rendo conto che soprattutto la prima metà del primo volume sia appunto un po' smielata, perché c'è l'ego, gli occhi che le brillano, Yukari che va a vedere lui, che sembra veramente Licia, ne parleremo tra un attimo di Licia, o meglio Jacco di Kiss Me Licia, quindi sembra proprio Licia che va a vedere Mirko, così con gli occhi che le brillano, ah io guardando l'ho capito, il primo amore, bla 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 bla. Superato questo scoglio poi comincia a diventare più interessante, almeno dal mio punto di vista. Voglio vedere come lo porterà avanti. Un altro punto a favore è il fatto che questa è un po' la storia della vita, cioè l'autrice, mi pare che si chiami Angry Uma, un nome un po' strano, ha detto nei free talk, insomma nelle note del manga, che questa era una storia che lei aveva ideato, mi sembra forse quando andava al liceo, insomma era una storia che lei aveva sempre dentro, e era disposta ad autopubblicarsela, a metterla su Pixiv, insomma a metterla online, poi un editore gli ha detto no, guarda io te la pubblico. Io ho un po' un soft spot per queste storie che vengono un po' dal cuore degli autori, che se le portano dentro per tanti anni, quindi spero veramente che poi la sviluppi in modo interessante. Ok andiamo avanti, l'ho nominata poco fa, Kiss Milicia, Ice the Night, di Kaorutada, color, stavolta versione color, sì perché la Nippon Shock edizioni da qualche mese ha cominciato, adesso dovrebbe uscire il volume 2 a breve, o sarà già uscito quando pubblicherò il video, non lo so, comunque in totale saranno 7 volumi, come insomma l'edizione normale in bianco e nero del manga, appunto edizione a colori di Kiss Milicia, come sapete Kaorutada è un mio punto debole, se non l'avete visto andatevi a vedere il video che ho dedicato a questa purtroppo compianta autrice. Kiss Milicia non è il mio manga preferito della Tada, che come ho già detto è Deborah la rivale, ma sono rimasta veramente colpita dal fatto che, pur avendo già letto Kiss Milicia nella versione in bianco e nero più volte, rileggerlo a colori mi è piaciuto come la prima volta. Allora, questa è un'edizione che ha una storia un po' particolare, nel senso che non è un'edizione giapponese, cioè in Giappone per un anniversario di Kiss Milicia hanno pubblicato su internet questa versione a colori, appunto colorata in digitale, senza però poi stamparne una controparte cartacea, quindi in Giappone non è mai stato stampato. Il marito della Tada, insomma la famiglia della Tada, poi quando la Nippon Shock gli ha chiesto se poteva stamparne una versione cartacea, ha dato l'autorizzazione. Quindi questa versione italiana, se siete fan di Kiss Milicia, la dovete prendere a tutti i costi, nessuno mi ha pagato per dirlo, ma lo dico proprio perché ci tengo, perché è l'unica edizione al mondo che esiste di questa versione a colori. Allora, com'è fatta questa edizione a colori? A mio avviso è fatta bene, ho letto dei commenti su internet di gente che diceva eh ma i colori non li ha fatti lei. Sì, è ovvio che è una colorazione digitale, ripeto, fatta per qualcosa che andava direttamente su internet, ma secondo me sono stati più che bravi a colorarlo, perché se poi lo comprerete vedrete, ma ci sono molti spazi aperti, quindi non era proprio facile immaginarsi come andare a mettere il colore. Secondo me comunque, posto che nel manga ovviamente sono presenti le tavole colorate direttamente dalla Tada, e poi dopo ci sono appunto quelle colorate in digitale, quindi tutte quelle che in originale erano ovviamente in bianco e nero, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, nel senso che per una colorazione digitale si avvicinano il più possibile a quella che era la palette cromatica della Tada, quindi esce fuori un risultato carino, allegro, cioè pieno di vita, pieno di colori, così un po' spensierato come sono le atmosfere poi del manga, senza però essere pacchiano, senza essere troppo assurdo, quindi è un'edizione che io trovo sinceramente coerente e rispettosa con quello che è lo spirito dell'opera, quindi io vi consiglio assolutamente di recuperarla, perché appunto è un unicum al mondo, cioè solo in Italia questa versione, perché è sempre bello rileggere chi smilicia, secondo me, e poi perché stavolta appunto uno può goderselo con un formato abbastanza grande e quindi si possono apprezzare ancora meglio i disegni adesso colorati della Tada, quindi è assolutamente promosso. Poi, Ice Guy and Cool Girl. Allora, di questo ne abbiamo già parlato, in realtà lo segnalo solamente perché adesso è uscito il volume 9, non è uno dei miei manga preferiti, però comunque è un manga che vi consiglio, soprattutto se avete letto ad esempio Wotakoi, che si è concluso, vorrei dire qualche mese fa, ma mi sa che sono passati un paio d'anni scherzando e ridendo. Comunque, è quel genere di manga che si legge quando si cerca una lettura di comfort, cioè uno di quei manga molto alla volemosebbene, per capirci. La trama è semplicissima se non lo avete letto, semplice e un po' assurda, c'è Himuro, il protagonista, che è un discendente di una donna delle nevi. Quindi quando si emoziona o succedono delle cose particolari, tipo ghiaccia tutto quello che gli sta attorno. In questo mondo è ritenuto normale il fatto di essere discendenti delle creature mitologiche. Ad esempio c'è un altro che è discendente di una fenice, così via. Himuro è un ragazzo tanto bravo, tanto carino, che lavora in un'azienda e c'è la sua collega, della quale non ricordo il nome, quindi di conseguenza Peppina. Himuro insomma lavora in questa azienda con Peppina ed è innamorato ovviamente di lei. Peppina è una brava ragazza, tanto buona, tanto brava. Anche lei verosimilmente è innamorata di Himuro, però i due non se lo dicono, quindi sono tutti tenerelli, tutti carini, tipo lui glielo vorrebbe dire però non ce la fa, lei glielo vorrebbe dire però non ce la fa. e quindi fanno sempre delle cose carine insieme, tipo oh come mi piace, oh com'è carina. Quindi sono un po' le avventure slice of life di loro due e dei loro colleghi, che vivono tutti quanti delle dinamiche simili. Questo ufficio è un po' tipo love bot, cioè ci sono tutte delle coppie così innamorate l'uno dell'altra, che però tipo appunto un po' non se lo dicono, un po' così, un po' pomì. Ecco, come atmosfera mi ricorda Wotakoi. Wotakoi mi piaceva di più, nel senso che i personaggi li trovavo più interessanti, mi piaceva il personaggio del senpai, non ricordo i nomi, non chiedetemi troppo. Però ecco questo è un buon surrogato, è un buon sostituto per quando uno proprio vuole spegnere il cervello. Infine, ultimo manga di cui voglio parlarvi, True Beauty. True Beauty, che poi non è un manga, ma è un manwa, come al solito sono imprecisa. Siamo al volume 13, 13 o 14, una cosa del genere. Manwa, anch'esso tratto dall'internet, da Webtoon, pubblicato in Italia dalla Planet Manga. Allora, di questo ne abbiamo già parlato, ma ne parlo ancora una volta. Questo, similmente a S-Guy and Cool Girl, è un manwa di comfort. Cioè, è una di quelle cose che a me piace molto leggere. Anche questo completamente a cervello spento. La storia è molto semplice, ormai siamo in un punto avanzato della storia, perché ripeto, siamo al volume 13, 14, però ecco, in linea generale, proprio l'incipit della storia che adesso abbiamo abbandonato da parecchio tempo, è quello della protagonista, che è una ragazza non molto bella, che però è molto abile a truccarsi e quindi fa del trucco proprio la sua vita. Nel senso, poi questo diventerà proprio anche una professione per lei. Però, inizialmente, tutto quello che fa è truccarsi per sembrare diversa, per cambiare completamente. E questo fatto poi la porterà a vivere tutta una serie di avventure, nel senso che conoscerà il primo dei due protagonisti maschili, che invece sarà uno che per la prima volta effettivamente nella vita se ne fregherà di come è lei realmente senza trucco, ma si affezionerà a lei indipendentemente dal suo aspetto fisico. Poi arriverà un altro coprotagonista maschile, del quale non vi dico troppo, però altrettanto interessante, Io tifo per il primo, se lo stai leggendo fatemi sapere voi per chi ti fate. Tant'è che mi sembra di ricordare anche il suo nome, si chiama Suo? Mi sembra? Ecco, Io tifo per Suo. È una serie di webtoon, quindi molto molto semplice. Insomma, la trama è molto semplice, la trama è quella di un triangolo amoroso, ma nella sua semplicità non lo trovo detestabile, non lo trovo troppo melenzo, anzi lo trovo molto gradevole. È vero che la storia è molto molto lunga, mi sembra che siano più di 20 volumi, quindi sarà molto lungo da leggere, però devo dire che con ogni arco narrativo l'autrice è molto brava perché introduce sempre nuovi elementi o ne ritira fuori di vecchi, insomma, io lo leggo sempre in maniera piacevole, mi dispiace sempre quando finisco di leggere il volume. È un fumetto di puro intrattenimento, non è Asta No Gio, non è il fumetto della vita, non è il fumetto che parla dei valori esistenziali, ma è qualcosa che uno legge proprio solo per svagarsi e ti fa svagare bene perché i personaggi sono tutti quanti simpatici e ben caratterizzati. Dal punto di vista grafico, non è proprio il mio stile di disegno preferito perché sembra un po' artificiale, fatto tutto un po' col computer, non so esattamente come descriverlo perché non è uno stile grafico di opere che normalmente seguo. Dal punto di vista grafico lo trovo gradevole, nella sua, se vogliamo dire, semplicità, perché appunto è un fumetto che nasce per Webtoon, quindi magari ci sono gli sfondi che sono ripetuti molte volte, però è tutto funzionale a quello che deve raccontare. Il costo non è indifferente, perché mi sembra che costa 14,90 euro a volume, quindi più o meno su 15 euro, però effettivamente per essere un volume interamente a colori poteva costare qualcosa di meno, però tutto sommato ci sta perché capisco il punto di vista della Panini, cioè il fatto che comunque il discorso dell'avversione a rischio, cioè perché è una serie molto lunga che quindi non so effettivamente poi quanto sta vendendo oppure no, quindi magari per tutelarsi gli hanno messo un prezzo un po' alto. Quello che invece mi fa arrabbiare della Panini è che prima di tutto non lo distribuiscono su Amazon e questa è una roba che mi fa veramente arrabbiare. L'abbiamo già detto nei commenti, ne abbiamo già parlato, mi avete anche spiegato i motivi dietro a questa cosa, però vi giuro è una cosa che mi infastidisce da morire. E poi le uscite sono un po' sfalsate, cioè è difficile da trovare, è questo il problema, cioè che anche quando esce da qualche parte si trova, da qualche altra parte no. Quindi non capisco perché fanno così. Altre volte invece viene rimandato, evidentemente non so, avranno avuto dei problemi, dei ritardi con la licenza, immagino, non ne ho la più palle idea. Però questo fatto che bisogna correre dietro mi innervosisce, quindi insomma sono grata alla Planet Manga che lo sta portando, però mi piacerebbe se fosse un po' più facile da recuperare. Comunque se lo vedete agevolmente, agevolmente se riuscite a recuperarlo, io vi consiglio di prenderlo. Bene ragazzi, questo è tutto. Io spero che questo video, in questo formato podcast, vi sia piaciuto. Magari sarà venuto un video un po' a lungo, però mi raccomando commentate sotto, fatemi sapere se questo formato vi piace e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!